salve ragazzi dovete fare un tour avete bisogno di aggiungere dei luoghi da visitare sulla mappa su google maps e non sapete come fare ecco qui la nuova spiegazione nuova perché quella che ho fatto l'anno scorso ormai è andata sono cambiate alcune cose ma passiamo subito al tutorial live come prima cosa definiamo il posto da visitare per esempio pomarzo che ve lo consiglio un bel parco che molti di voi ricorderanno per questo faccione qui di pietra io non faccio altro che aprire maps cliccare come vediamo già c'è pomarzo sulla mappa perché ce lo da direttamente una volta cercato su google io non faccio altro che cliccare su salvati e invece che creare un nuovo elenco potete anche creare un nuovo elenco ma io vado già all'apposita sezione creata già da google maps da visitare così ho le bandierine direttamente sulla mappa e vado ad aggiungere il mio luogo quindi clicco sui tre puntini modifica elenco ne ho aggiunti già alcuni e vado ad aggiungere il mio luogo ovvero pomarzo eccolo qui pomarzo burgo antico località giardino mettiamo il sacro bosco possiamo scrivere una descrizione che è facoltativa e adesso come vedete c'è il luogo che viene salvato automaticamente non c'è un pulsante salva salvataggio automatico infatti il luogo viene aggiunto sulla mappa io se faccio lo zoom della mappa comparerà la mia bella bandierina qui a pomarzo al sacro bosco insieme a tutte le altre bandierine e luoghi che ho segnato per i vari posti d'italia adesso non so forse a tropea ne segnai qualcuno eccoli qui qui cambia l'icona perché ho creato direttamente un elenco da zero eccoli qui gli elenchi classici ma pomarzo l'ho messo nei luoghi da visitare quindi se apro visitare eccolo qui il sacro bosco e me lo indica subito sulla mappa se voglio cercare da zero i miei luoghi da visitare o gli elenchi creati non devo fare altro che recarmi sempre su maps apriamo maps posso direttamente fare lo zoom sulla mappa e vedere i luoghi oppure vado in alto a sinistra su salvati prima dovevi andare sui tre puntini ma adesso compare direttamente qui comunque se non compare qui sulla sinistra cliccate sulle sulle tre lignette non sui tre puntini e poi su salvati ed ecco tutti gli elenchi tra i quali i luoghi da visitare già preimpostati con la bandierina e il mio sacro bosco ecco era qui sopra il sacro bosco però dovrebbe comparire la bandierina così come sugli altri luoghi già messi in precedenza e se questa bandierina non compare fate come ho fatto io cliccate tornate sui salvati aprite luoghi da visitare cliccate sul l'ultima ultimo luogo che avete inserito e provate a cliccare qui su salvati salvato e a impostare la località su viaggio su destinazioni oddio come si chiama piani di viaggio e poi a toglierla qui se qui questa sezione serve per spostare luogo anche nelle negli altri elenchi se io lo tolgo improvvisamente torna la mia bandierina che prima era sparita ecco qui allargando la mappa dei luoghi da visitare potete come ho già detto cambiarlo anche nei piani di viaggio è la stessa cosa qui potete anche inviare al telefono o condividere vedere altri luoghi nelle vicinanze io se torno ai miei elenchi posso tornarci anche da qui salvati ora si chiama salvati torno ai miei da visitare vado sul mio logo che ho messo privato qui posso decidere se nasconderlo sulla mappa modificare elenco o le opzioni di condivisioni che come avete visto io le ho messe le ho messe le mie destinazioni private ma potevo metterle anche pubbliche e visibili a tutti quanti per fare la stessa cosa da cellulare ti basterà aprire l'app di google maps precedentemente potevi trovare l'icona salvati qui in basso adesso c'è attività e novità invece adesso devi cliccare in alto a destra sulla foto del tuo profilo google e poi ecco qui salvati dove puoi trovare i luoghi da visitare come questi che abbiamo messo in elenco io apro questo il sacro bosco ed ecco le indicazioni posso cliccare direttamente sulle indicazioni oppure se voglio visitare gli altri luoghi presenti sull'elenco e ho bisogno di aprire l'elenco mi basterà cliccare sulla bandierina dove c'è scritto da visitare sotto l'ultimo luogo aggiunto ed ecco qui che ho tutti i miei luoghi aggiunti tra cui il sacro bosco che è nell'ultima posizione oppure mi basterà scorrere la pagina verso il basso ed ecco qui i miei elenchi tra i quali da visitare posso trovare tutte le bandierine dei miei luoghi da visitare ed aprirle semplicemente cliccando qui e poi se voglio le indicazioni clicco su indicazioni oppure se non voglio fare tutta questa tiritera torno indietro semplicemente aprendo la mappa e vedo già le mie bandierine senza aprire nessun elenco ho già le mie bandierine ecco il sacro bosco e le indicazioni se io invece da qui voglio aggiungere un luogo non devo fare altro che tornare indietro sempre qui in alto sulla mia foto profilo salvati apro il mio elenco cliccando su da visitare oppure qui sotto sopra il mio elenco o clicco sui tre puntini modifica elenco e posso aggiungere un nuovo luogo da visitare cliccando sul più e digitando per esempio duomo duomo di milano salvo posso aggiungere una descrizione ma io vado direttamente su salva possiamo vedere che il duomo lo avrà aggiunto si all'ultima posizione salvo e adesso sicuramente posso trovare il duomo di milano sulla mappa con la bandierina vediamo se funziona se ci ha messo la nostra bandierina ops sono salito un po' troppo in alto eccoci qui la nostra bandierina cliccando sulla bandierina vediamo il duomo di milano semplici ragazzi non è cambiato quasi niente basta solo giostrare tra le opzioni che sono state leggermente spostate bene ragazzi vi ringrazio per aver visto anche questo video e ci vediamo al prossimo video ciao ciao